L'Europa League va alla Siviglia, l'Inter è stato sconfitto per 3 a 2 ed è incognita adesso sul futuro del tecnico nero-azzurro Antonio Conte. Seguiamo Tava Stavilla. Senza Coppa e forse anche senza allenatore. E' finita male la stagione dell'Inter che sconfitta ieri sera a Colonia dal Siviglia. Ha visto svanire il sogno di conquistare l'Europa League e ha poi dovuto incassare anche le parole di Antonio Conte che hanno avuto tutto il sapore dell'addio. La partita ha visto i nerazzurri gestire male il precoce vantaggio procurato da Lukaku, abile a conquistare e trasformare un calcio di rigore dopo soli 4 minuti di gioco. Realizzato l'1-0, l'Inter, molto nervosa come lo stesso Conte, ha commesso l'errore di concedere al Siviglia la gestione della palla della partita. Gli spagnoli hanno pareggiato all'undicesimo con De Jong e al trentaduesimo si sono portati sul 2-1 grazie allo stesso centravanti. Al minuto 35 il pareggio di Godin di testa. Nella ripresa, dopo un paio di occasioni sprecate dall'Inter, al 28esimo lo sfortunato autogol di Lukaku ha consegnato la Coppa al Siviglia, che pur inferiore individualmente rispetto all'Inter, ha proposto un calcio più moderno. Nel dopo partita Conte ha ribadito il proprio malessere nei confronti del club. Nei prossimi giorni incontro col presidente Zhang per evitare l'addio, ma Massimiliano Allegri è pronto a subentrare al tecnico pugliese. E' giusto che comunque, come ho detto prima, faccia delle riflessioni. C'è anche una vita privata, ecco, c'è una vita privata. Devo capire, ecco. Un altro tipo del cinema è in connessione.